Salve, sono Demetrio Faroldi, responsabile commerciale per Analogway Italia sul territorio nazionale italiano, sono anche responsabile per quanto riguarda le aree Svizzera e Medio Oriente. Analogway quest'anno presenta come novità sul Salone ISE 2012 lo Smart Quad, che è una macchina per quadravisione con un ottimo rapporto prezzi-prestazioni che ci permette di visualizzare fino a quattro sorgenti live contemporaneamente e il relativo riposizionamento sullo schermo delle differenti sorgenti. Analogway quest'anno è in una situazione di attesa, in quanto comunque l'anno scorso, negli ultimi due anni, abbiamo presentato tantissimi modelli sul mercato. La nostra intenzione è di ritornare poi per il 2013 con numerose novità. ISE 2012 quest'anno ha avuto una partecipazione veramente eccezionale, abbiamo avuto un numero superiore agli anni precedenti di Leeds, di partecipazione da parte dei nostri clienti, sia nuovi clienti che clienti fidelizzati. Quindi è stato un evento veramente interessante dal nostro punto di vista sia commerciale sia di promozione dei nostri clienti. Abbiamo ancora una volta riproposto il discorso di doppia rappresentanza sul livello nazionale, continuiamo ad utilizzare il nostro distributore Comtec e in parallelo, come già abbiamo fatto dall'inizio del 2010, in parallelo abbiamo aperto appunto la distribuzione diretta, con il supporto diretto ai clienti finali. Per quanto riguarda il mercato dell'integrazione, il nostro obiettivo è quello di implementare nell'arco dell'anno sempre di più il mercato dell'integrazione. Quindi con la gamma che adesso è al pieno della sua funzionalità, possiamo approcciare sia dalla piccola installazione fino ad arrivare alla grande installazione.